Il questore di Caltanissetta, Pinuccio Albertino Agnello, ha presentato il nuovo dirigente della squadra mobile, il vicequestore della Polizia di Stato, Rosario Scalisi, che ha sostituito il vicequestore, dottor Corrado Antonino Ciavola, trasferito alla questura di Catania dopo quasi tre anni di permanenza a Caltanissetta. Il vicequestore Scalisi, che fino al mese di marzo ha diretto la Cisco di Brescia, è messinese, ha 45 anni, è laureato in giurisprudenza e ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto europeo presso l'Università di Messina e è abilitato alla professione di avvocato ed è entrato in polizia nel 2008. Vengo da un'esperienza diversa rispetto a quella che invece sto avviando in questo momento, dove chiaramente vi era una criminalità più infiltrata dal punto di vista economico per la prosperità del territorio dove lavoravo in precedenza. Chiaramente Caltanissetta, dalle prime battute, da quello che ho potuto vedere in questi primi giorni, ha le caratteristiche tipiche della Sicilia e quindi l'attenzione deve essere necessariamente incentrata al contrasto, a tutte le forme di criminalità, specie quelle di criminalità organizzata, perché sono appunto convinto che solo il lavoro quotidiano possa consentire poi di raggiungere i risultati di contrasto delle organizzazioni criminali. Anche perché sappiamo bene che queste organizzazioni hanno una notevole capacità di rigenerarsi anche a seguito delle attività che vengono compiute di contrasto e quindi non bisogna mai abbassare la guardia, il mio obiettivo è appunto quello di continuare nel solco del lavoro che è stato effettuato da chi mi ha preceduto e poi col tempo anche magari dare un'impronta personale per quella che può essere la mia visione del lavoro.